Ciao bambini e ben ritrovati! Praticamente il nostro video di oggi è per le bambine perché abbiamo quattro principesse bellissime dalle bambine Abbiamo appena comprato un rivalino fantastico per Henry per il suo compagno insieme a una bellissima coronina da principessa ecco la coronina, la baghetta magica, la colanina questo domani poi Emily lo aprirà con tanta gioia poi vi manderemo, caricheremo un nuovo video dove Emily apre tutti questi giochini e poi noi ci abbiamo qua, Ariel, la sirenetta sono tutti giochi originali Disney, molto 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 belli che poi nel prossimo video caricheremo mentre Emily li apre ecco poi ci sta la principessa Tiana la principessa Tiana, da Tiana il ranocchio la principessa il ranocchio, vi ricordate? ma non è bellissima lei? e poi ci sta Rapunzel la Rapunzel, la principessa con dei capelli super lunghi che era rinchiusa nella dolore della cattiva madrina madrastra che l'ha rapita dai suoi amati genitori non è bellissima Rapunzel ecco recapituliamo ci sta Rapunzel che fantastica anche questo è un giochino tutti i giochini originali Disney sono bellissimi ecco Rapunzel Tiana Tiana, la nostra principessa la principessa di folecchio e poi ci sta Rapunzel dalla Sirenetta ecco cari amici amici e cari dolci bambini ecco e poi la bacchetta insieme alla coronina e la colanina da principessa nel nostro prossimo video caricheremo Emily che è una bambina stupenda, fantastica che aprirà questi giochi per farlevi vedere meglio a presto bambini un abbraccio grande grande ciao ciao